Il Signor Johnson Era furioso Era un rischio Ma immaginavo che avreste abbandonato i confratelli Colonnello Il manoscritto Perché ridarlo a me? Perché, Signor Cormac Io mi fido di voi E con voi è in mani sicure Con rispetto, Signore Io sono un bersaglio ben più di voi Signori Casego Waze vuole attaccare Albani I suoi alleati minacciano un villaggio Oneida E le truppe francesi sono già nel nostro territorio Potrei sempre rallentare i francesi E aiutare gli Oneida Prepareremo la difesa ad Albani Se vogliamo sconfiggere Casego Waze E i suoi alleati Dovrò aiutare gli Oneida E vedere che fare con i francesi E le truppe francei E le tr badge Capitano al timone Non per ficcare il naso Ma per caso sai se che Segowase Ha qualche punto debole No, nessuno Era una sentinella e un mercenario Prima di diventare un assassino Beh, che la fortuna ti assista Io me la creo, la fortuna Il colonnello ha un certo controllo sull'esercito Almeno su parte di esso Ma abbiamo bisogno sia dei soldati Che dei loro alleati nativi Se vogliamo organizzare una difesa efficace contro che Segowase E Segowase ha alleati in ogni tribù che sta dalla parte dei francesi Oltre a sentinelle e cacciatori Avremo bisogno di tutto l'aiuto che riusciamo a trovare C'è la fortuna 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 Che c'è nella caverna? Allerta, uomini! You have my gratitude, son! Die! Come si entra in quella caverna? Oh, my fainkin' death! No, 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 no. I can't get it from here. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.